No, è a voto segreto, è a voto segreto, è a voto segreto. I franchi tiratori abbattono il... tedescom. I franchi tiratori, dove si nascondono? Eh, questo... certamente non in forza Italia. Io sono... io non posso essere un franco tiratore, sono solo franco. No, no, io sono... sono franco perché mi chiamo Francesco, tra l'altro. Il franco tiratore. Di chi? Vedo un uomo, età militare. Noi abbiamo votato coerentemente con quello che abbiamo dichiarato in aula. Gary sta soltanto chiamando la moglie. No, io voto sempre quello che dico, ringraziando Dio. Non ho bisogno di essere franco tiratore perché faccio già delle battaglie talmente scomode che non potrei più votarle. Non cercare nel PD per forza, ho fatto i numeri matematici.